L'ufficio postale di San Nazaro d'Ungina, frazione di Monticelli, nella bassa piacentina, ha riaperto i battenti dopo che il piano di razionalizzazione di posti italiane aveva interrotto l'attività nel settembre scorso. Il Tar di Parma, infatti, ha sospeso la chiusura contestando i contenuti della delibera Agicom, che ha dato il via libera alla soppressione di otto uffici postali nel piacentino. Santimento, Biana, Godi, Rezzano, San Giuliano, San Nazaro, Settima e Vico Barone. Cauta soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Monticelli, Michele Sfriso, ben consapevole che la riapertura è solo temporanea e soggetta a future decisioni organizzative nazionali. Lo sforzo che abbiamo fatto di andare a verificare puntualmente le abitazioni escluse da queste distanze, che è uno dei criteri essenziali, sia stato riconosciuto e quindi oggi viene stata fatta un'ordinanza di sospensiva. Quindi viene riconosciuto il fatto che è un elemento essenziale per il nostro Paese e quindi questo è importantissimo per noi. Noi ci auguriamo, speriamo insomma che il giudice riconosca l'utilità di questo ufficio postale, di questo servizio, che voglio ricordare poi a San Nazaro è l'unico ufficio disponibile nella nostra frazione che serve comunque un importante numero di abitanti, di cittadini, stiamo parlando di circa 1000 abitanti e prevalentemente anziani. Ma nella bassa Piacentina lo stato d'animo degli amministratori locali non è lo stesso. Se infatti a Monticelli la municipalità ha espresso soddisfazione per la riapertura dell'ufficio postale di San Nazaro, nel comune limitrofo, quello di Castelvetro Piacentino, c'è amarezza e sconforto per la chiusura definitiva della filiale di San Giuliano e per la certezza che centinaia di cittadini non potranno più contare sulle poste frazionali. Qualcosa non va nella pianificazione delle poste italiane e del servizio che rende ai cittadini. Ci sono cittadini di serie B e cittadini di serie A, evidentemente, se questa è la conclusione che devo trarre da quanto è accaduto per San Giuliano rispetto alla situazione che è di Monticelli. Tenendo presente che la frazione di San Giuliano è molto più numerosa in termini di abitanti rispetto alle frazioni di Monticelli. Quindi questo non spiegherebbe questa scelta ed è una scelta che mette in difficoltà la popolazione di San Giuliano, che è una popolazione relativamente anziana, che è abituata a vivere dei prodotti postali, che è abituata a usare un servizio che ritiene essenziale per il proprio territorio. Toglierlo è veramente una cosa che danneggia questi cittadini.